Villarendano a Cosenza è stata la location prescelta per celebrare la figura di Miguel de Cervantes in occasione del quarto centenario della sua scomparsa. Scrittore, romanziere, poeta e drammaturgo, Cervantes è noto come autore del romanzo Don Quixote della Mancia, uno dei capolavori della letteratura universale. Esperti e studiosi di letteratura spagnola ne hanno tracciato il profilo, sottolineando la contemporaneità del suo pensiero, l'estro creativo e la sua flessibilità di poeta e drammaturgo. Cervantes passa attraverso la sua vita e elambora l'opera letteraria, quindi non ne può fare a meno. Lui vive, subisce la situazione dell'epoca, sostanzialmente la sua vita è costernata da situazioni non proprio positive, di conseguenza ne trae l'esperienza. Viene rapito dai pirati barbereschi e fa cinque anni di prigionia. Questi cinque anni di prigionia le consentono di gestire quella che sarà la sua opera massima.